musica bella figa e merda ciao ragazzi nuova serie, chiameremo serie lorda e vi lasciamo a voi intendere se è lorda tipo lorda america, lorda di zombie oppure lorda proprio sporca allora abbiamo... spiegami in che cosa consiste ecco, siamo tre contro uno, i tre sono con... armati di coltello baristico e tomo e tomo l'uno invece è solamente... ah non muoio l'uno invece è solamente con un executioner silenziata con... cos'altro era? figlio di guerrero non ci andare vicino, cioè... cioè lui può fare solo quello e tu ci vai vicino, sei proprio cretino allora, fa te tua mamma è cretino torta dì fa schifo questa arma figlio, puoi stira a scorreggi tutto ricarica è entrato in casa, è entrato in casa, è entrato in casa, è salito sopra, dai non cerchiamo oh non ci sa è tanto da uno shot, a due di due coppie, non mi fa mamma che schifo perciò, mi fa di uccidere, ci fotte, mamma mia otta vabbè con chi c'è lei ma più anche a Vegas ma basta, muori una volta, mamma mia io non c'è sto pareggiando perchè io non sono morto mancuna volta, altrimenti ci starebbe trombando praticamente fai mai venga venga scorri ma che corri non spesso te le palle cioè davvero davanti lo potevi ammazzare lui vede di spalle dove c'è entrato, nella casa non c'è andare che c'è siamo 5 pari, forza si può fare ma non è così impossibile, è nella casa, nella casa rossa non c'è butto nooo, è impossibile nooo, non è impossibile, cioè noi potremmo vincere dai guardate fuori noi potremmo vincere facilmente resta di... nooo, ok dai dai, dov'è, dov'è finito, occhio sei un cretino, veramente, non c'è che fare fra te è ovviamente che non potremo mai vincere l'ho ammazzato sono grave ci sono 800 tomoc ah stiamo pure perdendo, va siete degli indiani sono degli incapaci, no, degli indiani no mamma è un indiano non è con me che fa ahug, spingi poi scorrei con te, coglione dove cazzo è? ma ammazzato no, 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 sì, sì, occhio, occhio, che vi stun mascheratatica che serve a farti uccidere l'altro che non aveva, scopi che non è morto cazzo il nostro ordo l'ord, l'ord oh, porco l'ord l'ord tua mamma volta no, no vedi di morire però, va ma te sono l'unico che ancora è morto una sola volta una sola volta beh, perché io vado tipo all'attacco totale è perché cacchio non avete un minimo di strategia dove hai dei cervelli ma se si chiama l'orda sì, ma avete i cervelli col pusto, vedete tale, tale, mi sono incastrato nella porta cazzo cazzo, non riesco a uscire ah cazzo, stai facendo hd colpio alcindilo l'omore l'omore perchè si gira laica, porco laica, porco porco è morto fa schifo quest'arma anzi, frate, anzi c'è stai giocando contro Charlie che cazzo ho scorreggiato avete mai visto una persona a ruttare e petare al contrario il peter griffin modello peter griffin l'avete visto anche voi con le persone troppe volte ci nasconderemo nel paese delle fatte dove i petti sono ruti ruti sono ruti e io lo ubbio Peter griffin è un idolo un'american idol un idolo delle persone ma basta ma non morite io sono una bestia due colpi le best feed io sono una mini strategia io tra un po' sono all'ovp ti piacerebbe ma che cazzo le tirale dai che siamo pari oh ma io con la coltellina sto facendo le skill random guarda dov'è il camperissimo è lì dentro lo so è a metà dentro è da fuori tale 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 l'unico che riesce a venirci che cazzo si sta dannando occhio che è dietro ma che cazzo mi faccio le imboscate sono quasi all'ovp ragazzi mi manca una chilla e mezzo praticamente ma dai capo no no ok perfetto non voglio morire io voglio morire io voglio morire io voglio morire scappa 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 nooo volevo morire pezzo di merda nooo 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 non ricarica l'arma non ricarica ci ce l'hanno tutti i coltelli pure le armi ma te ribalzate eh chi è quel ciauli ciauloni chi è quel ciauli ciauloni oh my god ciauloni ma secondo noi ciauli da dove viene morto occhio l'ho visto non si sa mai ti fai crappare dalla ma pare che sono un pro un pro un pro ma perchè è quel ti stiamo vincendo dai che dai ragazzi dai ragazzi la serie durerà poco perchè l'orda è lordissima l'orda lordissima l'orda lordissima non c'è andare non c'è andare devo guardare meglio negli scherchi aspetta mi sono finiti ho un attacco b da due lati veloce da un lato già cazzo come non è morto no 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 che pro che pro ho fatto il nabbo io con le pro non sei tu pro è lui cioè sono io nabbo tira 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 non mori non muoio non muoio dai dai che siamo solo uno sotto si può fare dai dai ragazzi dai zompi dai zompiamo via ma muoio l'ho ucciso dai sempre uno sotto si ha dai 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 tomoca crostomap ecco lo siete parte qui esiste già occhio alla casa cazzo mi hai visto facendo impazzire si praticamente si attacchiamo tutti i patti vi ha detto mamma si non 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 te sole sono due ore tra una chile l'albero fa facendo però lui è svolto ma che cacca, le spalle di controdimessa no dai! hai alleati? si, suo padre e sua madre cazzo che cosa? vedete di qua no no ma non ci svolgiamo scorri, 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 scorri bene come l'acqua come l'acqua, come l'acqua ne mi scorri scorreggia ma come cazzo è lui? come abbiamo chiamato ok mamma di coltello io ho sparato a xxvegas sei un coglione occhio occhio alla mia! eh sono deficiente di nuovo so quello tegno sobo! uno si toglie l'altro viene è tutto un azione c'è un azione sto vincendo ma io non muore! un uccidente lo metto io a scappo! nooo! una dallo schifo! ma muoio! diesel corri! stiamo pareggiando sto sudando come le peggio bestie cioè tipo... nooo! stiamo vincendo! camperiamo! camperiamo! camperare è da villani! e poi ci uccide se camperiamo lui ha un'arma si ma noi siamo tre ma ho ucciso o sbaglio? si mi ha ucciso oh cazzarone a me devi morire! nooo! scogli come l'acqua e come... soffia come il vento oh cazzarone oh cazzarone nooo! cipra! 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 troppo forte! per te ci siamo fatti intrombare i charlie dalla mina troppo forte! diokani no ho vinto bastava troppo forte! perchè lui fa le triple feed con la bouncing back 2 con la bouncing back camper! no scherzo dai 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 no se te la camperi di tutti se te la camperi di 6 se te la camperi di 6 la serie quindi continua certo certo che che il prossimo sono io va! non lo sono io dai basta per segnare xxvega nooo! sei un bestemmiatore in alto veramente non ho cominciato che va ogni giorno a messa a messa a bestemmiare no vabbè che cazzo è uscito qua? per te ormai c'è distrutto alla fine abbiamo ammazzato no l'ho ucciso madonna l'ultima uccisione è da vedere è troppo forte guardate l'ultimo... no 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 vai 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 l'ultima uccisione la dobbiamo vedere sta o non sta? si si sta sta dai ma l'ha fatta lui l'ultima uccisione ammetta le kenshot l'ha ballerino no no l'ho fatta io l'ultima uccisione perchè io poi sono arrivato guarda ammazzato ah va minchia non è affanzato alla prossima della nostra serie lorna lorna tocca a me la testa